Zeman a Lecce ha discusso sempre Siano che è follia, credimi Perché? No, perché lui dice Questo per me non è calcio Io facevo, prendo la palla, c'era un bel sinistro Tiravo, questo non è calcio Io ho fatto, mi ricordo, due gol Al Brescia, all'Inter, all'Roma Ho fatto, giorno dopo Riunione, tutti, mi massacrava Per me questo non è calcio Tu non puoi fare questi gol Questo non è Anche, hai fatto due gol, devi fare quattro No, veramente, discutevo sempre Perché lui voleva, proprio Zeman Voleva che tu facevi il gol proprio con i schemi Con i suoi schemi che lui Usava, 4-3-3 E che tu facevi i tagli La punta che veniva dentro I due, come si dice C'è una forma di I due esterni che si inserivano E lui voleva il gol con la sua Tattica, non voleva che prendi la palla e tiravi